Buonasera, buonasera, questa sera vorrei dirvi quanto mi sono divertito, quanto mi è piaciuto leggere questo libro, questo libro che è Storia del punto nave, lo vedete, il sottotitolo l'orientamento in mare nel corso dei millenni, allora cos'è il punto nave? Il punto nave è se noi prendiamo una matita e possiamo in un punto qualsiasi in mezzo all'oceano, quel puntino lì rappresenta dove siamo noi, allora il punto nave vuol dire il punto dove si trova una nave, in altre parole significa sapere dove si è, nell'immenso mare bisogna avere un'idea di dove si è e se si ha un'idea di dove si è, si ha un'idea anche della rotta che si vuole percorrere. Ai tempi nostri, non dico che sia una stupidaggine ma è banale, il punto nave basta schiacciare un bottoncino e il GPS ci dice esattamente la latitudine e la longitudine e quindi sappiamo esattamente dove siamo, ma il punto nave è sempre stato importante sin dai tempi antichi, dai primi navigatori, dai fenici, da quelli che cercavano di esplorare il Mediterraneo e che volevano conquistare nuove terre oppure che volevano commerciare con altri popoli, hanno sempre avuto il problema di sapere dove si trovavano. Finché navigavano vicino alla terra, avevano i punti cospicui, riuscivano a orientarsi con una roccia, con una città, con una qualche cosa visibile, ma in mezzo al mare come si fa? E questo libro racconta in modo non eccessivamente tecnico, diciamo non ci sono formule, matematiche, ci racconta tutti gli sforzi che da centinaia e migliaia di anni hanno fatto i popoli per sapere dove si trovavano. La cosa più interessante per esempio è che se è vero che hanno risolto abbastanza presto il problema della latitudine, cioè quanto a nord o a sud si trovavano, ebbè che hanno impiegato moltissimo fino al diciottesimo secolo per imparare invece dov'è la possibilità di trovare il loro punto nella longitudine, quanto a est o quanto a ovest si trovavano. Ecco, questo bel libro, ripeto non è un libro tecnico, infatti è un bel librone di più di 300 pagine, racconta tutti gli sforzi di queste persone. Naturalmente è un libro che racconta anche è una storia della navigazione, se vogliamo, da un certo punto di vista. Può interessare non soltanto chi va in barca, chi è interessato ai problemi negati alla navigazione, ma anche chi è interessato ai problemi di storia, per capire come questo mare, e stiamo parlando non soltanto del Mediterraneo, questo mare in qualche modo è stato possibile solcarlo, ed è stato possibile riuscire ad arrivare nel punto giusto. Una volta pensate che tentare di andare a Roma e trovarsi ad Atene, quindi qualcosa di assurdo, per noi era possibile, gli errori che si facevano erano molto ma molto ma molto gravi e l'approssimazione nelle varie misure era enorme. Adesso abbiamo la possibilità di avere un'approssimazione di un metro, i GPS attuali circa un metro, quindi anche dentro una nave ci sono tanti punti, perché se camminiamo da prua a poppa il GPS cambia, ma in più rispetto alle nostre necessità, rispetto alle necessità di chi naviga per di porto. Bene, non voglio dirvi altro, storia del punto nave, eccolo qua, l'autore è Paolo Dell'Oro, che è un autore che ha scritto anche degli altri libri, sempre per il frangente editore, sono tutti libri interessanti, abbastanza libri corposi, però libri che si leggono con molto piacere e si leggono molto a volentieri, ve lo consiglio.